La morsa del caldo africano arroventa l'Italia e i suoi campi. Da oggi gli esperti annunciano una graduale impennata delle temperature che in alcune regioni toccherà nei prossimi giorni picchi di 40 gradi con un'afa che si farà sempre più intensa e una conseguente percezione della calura che potrebbe sfiorare anche i 50 gradi soprattutto nelle zone del centro e sud Italia. Eccessi di temperatura che non mancheranno neppure nelle regioni settentrionali dove la colonnina arriverà fino a 10 gradi centigradi sopra la media. Si prospetta insomma un'ondata di calore con similitudini con quella che avvenne nell'agosto del 2003. Piogge assenti e temperature ancora in rialzo nei prossimi giorni non aiutano. Terre sempre più arse anche in provincia di Alessandria dove è stato istituito un tavolo tecnico permanente sulla crisi idrica. moltissimi provvedimenti che si stanno moltiplicando nei vari comuni del territorio sotto la tutela del legato 6 proprio per cercare di contenere l'emergenza siccità. E si moltiplicano pure gli appelli delle associazioni agricole preoccupate per una criticità che rischia di far collassare il sistema produttivo. A tal proposito nel rilevare l'aumento dei costi dell'energia, degli imballaggi e delle materie prime che freneranno l'economia ripercuotendosi sulle tasche dei consumatori e minacciando la competitività dei settori produttivi, Confagricoltura e CIA Alessandria chiedono ancora una volta un'attenzione concreta da parte delle istituzioni. Il 18 luglio alle 16.30 i vertici alessandrini delle due confederazioni agricole saranno ricevuti dal prefetto Francesco Zito proprio per presentare le loro proposte e richieste del comparto in questo difficile momento. Si arriva ad esempio ad un incremento dei costi dei fertilizzanti fino al 150%. Il caro bollette, l'aumento dei costi energetici e il gasolio agricolo negli ultimi due mesi ha avuto un rincaro del 25%, spiegano ancora da CIA e Confagricoltura. E con l'acquirsi della siccità, gli agricoltori sono stati costretti ad intensificare gli interventi di lavorazione del terreno e di recupero dell'acqua. L'aumento del prezzo del gasolio ha messo a rischio le trebbiature, i raccolti e ostacolato le irrigazioni. E poi ci sono gli effetti della guerra in Ucraina, della peste suina africana, del continuo aumento dei costi di produzione. Riteniamo il mancato rinnovo del credito d'imposta sul gasolio agricolo un fatto preoccupante, prosegue una nota congiunta. Per queste ragioni è stato sollecitato un nuovo provvedimento specifico per il settore agricolo che consenta di estendere l'agevolazione almeno fino alla fine dell'anno. Prima dell'incontro a Palazzo Ghilini con il prefetto, lunedì prossimo Confagricoltura e CIA incontreranno i parlamentari del territorio alessandrino.